Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini ed Asia Argento. Il leader della Lega ha scritto un messaggio che ha di fatto messo in relazione il 25 aprile con il caso dell'omicidio di Pamela Mastropietro. In un commento sui social, il leader del Carroccio ha scritto, per soncine per bene. Ecco da chi occorre liberare l'Italia oggi. Cancelletto liberazione. Di seguito ha postato un articolo che riguarda proprio la ragazza uccisa a macerata. E al leader della Lega ha risposto, sempre su Twitter, Asia Argento, cancelletto Salvini merda. Un vero e proprio insulto contro il leader del Carroccio che non è passato inosservato sui social. E così è arrivata immediata la controreplica dello stesso Salvini, la delicatezza della democratica compagna. Insomma un botta e risposta duro che in pochi istanti ha fatto il giro dei social e che ha raccolto una valanga di commenti da parte degli utenti. C'è chi ha difeso il leader della Lega e chi invece si è schierato dalla parte dell'attrice. Non è la prima volta che l'argento mette nel mirino Salvini. Questo è l'ultimo scontro di una lunga serie.